Ops a tutti, 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 i cari Upsini, Upsini Come, 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 come state? Spero bene, spero, spero, spero bene, dai Oggi sono qui per fare con voi questo nuovissimo video Dove vorrei, aiuto, rilassarvi, ce la faccio parlare oggi Parlando molto, molto, lentamente, molto, lentamente Facendovi sentire un po' di breath sounds E anche se riesco, ho uno o due trigger in più Quindi, indossate un po' di, un po' di cuffie, ma cosa vuol dire? Indossate un paio di cuffie o auricolari Stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi, va bene? Vorrei, appunto, fare anche un sacco, un sacco, un sacco di visual trigger Perciò speriamo che la telecamera li riesca a gestire e non mi metta male la luce Detto ciò, cominciamo dai Farò, quindi, qualche sussurro molto vicino al microfono ma anche molto, 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 molto 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 presto Così anche voi possiate concentrarvi sulle mie mani osservare come si muovono proprio davanti al tuo viso, al tuo viso, al tuo viso. Quindi respirate insieme a me. Ho tipo le labbra secchiesime, però vabbè. Ricominciamo con un po' di visuale trigger, credo. Poi un trigger che volevo provare, in realtà, era questo di uno scovolino e fare tipo perciò fatemi sapere se vi piace. Lo faccio anche qua. E niente, magari lo riesco a metterlo. Perciò fatemela bere, se vi piace. E niente, magari lo riesco a metterlo. Perciò fatemela bere, se vi piace. Allora, una cosa che posso raccontarvi è che in queste settimane, visto che io ad agosto sarò via tutto il mese, o quasi tutto il mese, ho deciso di portarmi un po' avanti con i video, quindi ogni notte, cioè una volta a settimana, ogni volta che devo registrare, registro ben due video, uno dopo l'altro, così che possa appunto portarmi avanti per non lasciarvi senza video. È un po' tosto per me, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Per farvi capire, questo video qua, questo video qua, lo sto registrando dopo quello delle celli brutte che ho fatto, che voi avete visto la settimana scorsa. e quindi così, osserva la mia dita che si muore, la mia dita che si muore, la mia dita che si muore, la mia dita che si muore. se volete sapere che giorno è oggi, oggi è, il, per me è il 2 luglio, 2 luglio, e sono le 3.48 di notte, e magari uno di voi si sta chiedendo, mamma mia, ma tu devi alzarti la notte per centrare. e già, io mi alzo alle 3, alle 3, e inizio a ricentrare verso le 3.10 tipo, ci metto 20 minuti per video, se un video va bene talvolta anche qualche secondo in meno, se un video va un po' male ci metto anche 22, 23 minuti, ma poi mi blocco io perché dico basta, 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 basta. ma Здесь prenda 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 piace va bene E niente, un multisquero aiuta a ritorno a osservar la mia tinta che si muove dietro che si muove dietro e adesso chiudi gli occhi, chiudi gli occhi e respira si mamma E' arrivato il momento di dormire per ciò di chiudere gli occhi, chiudere gli occhi, chiudere gli occhi ok dormi, dormi, dormi dormi, dormi, dormi si si, si com'è andata questa settimana? anche possiamo dire queste prime settimane di luglio come sono andate? siete già andati in vacanza? si si dove? 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 raccontatelo dai io come vi ho detto oggi andrò ad agosto perché per quando guarderete questo video mio papà avrà finito di lavorare ma mia mamma no perché lei finisce i primissimi primissimi giorni di agosto quindi diciamo che letteralmente qualche giorno dopo che lei finisce partiamo e quest'anno come l'anno scorso andrò una settimana a Rimini nel Lido quello con i recinti pericani appunto quello che avete visto nel vlog dell'anno scorso esattamente in quello mentre poi starò due settimane due o tre vediamo dai miei nonni materni in un paesino in provincia di Caserta e quindi così così facciamo di nuovo due respiri ok facciamo di nuovo due respiri ok adesso volevo di nuovo prendere questa come la posso chiamarla? questo scuola questo scuola fa un bel suono dai perché ieri sera l'ho provato ma non ero tanto sicuro potessimo vedere che è invece bello ok adesso ritorniamo a prendere e buttare via scuola a prendere e buttare via 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 in un momento è il momento l'antorgi è già perciò adesso ultimi due respiri e cucù cucù adesso iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della UPS community e diventare un psino se sei un maschietto altrimenti è un psino se sei un uomo poi mi raccomando importantissimo lascia un bel mi piace se il video ti è piaciuto e commenta qua sotto con quello che vuoi i bei commenti sono sempre 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 quindi non avere paura a scrivere il video di oggi finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist di qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu farai perciò se te li sei bene si magari puoi recuperare i video precedenti io quindi ti mando un grande grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video ci vediamo alpremio buona notte voona notte voona notte voona notte voona notte Grazie a tutti.